buonissimo video in questa nuova live scusate ragazzi oggi andremo a fare il torneo spazzino con pop up pop up e mi raccomando iscrivetevi al canale poi se mi passa per la mente faremo anche faremo anche i provini prima avevo fatto una partita bellissima dopo non so avevo fatto 3 kg avevo fatto pure un punto poi è arrivato uno scarso mi ha ucciso perché mi ero imbrogliato con le costruzioni però vabbè se lo carico sul canale vedo poi non so però raga speriamo che farò anche altri punti speriamo voglio arrivare a trento dai magari ci vediamo questo bellissimo medikit una pistola ma vabbè ma vabbè non so ma vabbè ma vabbè ma vabbè ... ... ... ... ... ti piace la banana ma no raga che sfiga però vabbè avevo pure armi di merda però mamma mia e ho fatto pure una kill figurateci raga dai raga però se volete fare qualche provino bello ragazzi ciao leon ti invita tutto il giorno non si è entrato ho detto ma faccio la live speriamo che entra cioè che mi invita poi alla fine mi invita vediamo quanto te la dia di scelto questa pistolina 5-2 raga leon leon quanti punti ha il torneo io ho un punto prima avevo fatto 3 kill ma come l'ho fatta 3 kill forse dopo le carico anche sul canale ma che è tuo fratello che mi sta guardando in live tu vabbè ma non so chi cioè se vuole scrivere in live magari perché così so chi si mangia anche un'arma ma che palle sono pistola se va bova il termico cioè ma che sfigo io ma tu stai monetizzando oh baby ma fecche spalle eh comunque li ho hai visto ma il massimo del materiale è 500 mamma mia c'è 500 e pochissimo 50 lo sai come lo fai subito ce la finisce subito giorno 999 già ma tu non giochi perché no ragà tra qualche giornata la mia festa c'è il 16 lo comprerò disco e faremo l'unboxing dai dopo che editi facciamo qualche partita questa sera non sta entrando nessuno solo una persona hai visto quel piccone toglie pure vendi 8 Comunque raga dopo passate anche dal canale di Leo Gamer 05 giusto? Giusto Leo Gamer 05 Tutto grande? Tutto grande e tutto attaccato raga Andatevi iscrivere Anche lui fa live per mono perché la linea è di merda Tra virgolette Ehm Lo devi iscrivere Fa anche i video eh Se ritare bene Il contrario è mio Si fa un po' fucile vabbè va Oh 54 di abbi A sto teizio Oh no che si Che che sei live raga Leo forse me mi prendo il compito da gaming Me lo completo io Capito Ander Chi è Ander Raga ma che è Che sei live Angela Ciao Ciao Ma sei live Si Ah mi hai visto dalla live Si è di Però seguendo il live Ah e ti sei iscritto al canale No come ti chiami Scusa tu mi hai finito Mi segui su youtube No però mi guardo le live quando le fai capito E' mo' sto in live Ok Vado a vedere Iscriviti al canale Io vado in certe parti Ok ti invito Se riesco Leo E' entrato uno Vuole fare il provino Ti ho suggerito uno Metti due su tre C'è tre su due Ti ho suggerito una Dai Leo Ok Ok Adesso ti ho vingiato in gioco Lo dico Guarda che ti ha invitato il mio amico Mickey Maron Entra Capito? Angela Ok Ma vuole fare il provino Per il tuo team Centrato Pensavo che vuole fare il provino Non so Vabbè va Facci provino Ti sei iscritto al canale Non so Sì Sicuro Ti sei iscritto a canale Non so No No mi chiamo Metz93 Tutto piccolo Angelo Trattino No Mi chiamo Metz93 Su YouTube Aspetta un moment Non so Non tutte Ai ok vedi mi sono iscritto leo la live iscritto di cambia ha fatto 341 visualizzazioni e 25 mi piace ma tu no ma ti dico tutte le views che sta facendo no vabbè va allora la video presentazione 154 il secondo video 54 la challenge speciale 20 iscritti 406 visualizzazioni per arriviamo a 35 iscritti 52 poi grazie per i 37 iscritti 53 challenge indovina la bibita 328 grazie per i 40 iscritti 46 challenge i jappi band 123 ragazzi non vi preoccupate faccio ancora i video arrivi 75 critical ops 43 55 61 forza forza orizzont 2 62 visualizzazioni e come ho ho m6 ora perchè dopo c'ho una penis a meno che fa i 400 km fengolari ragazzi 430 km fengolari sono tanti allora facciamo questo progetto eeeh se vi facciamo questo episodio che fosse il primo episodio che ti fa tu allora io se ho provato per il progetto aspetta un attimo poi lei ho appunto il progetto da mia fidanzata 275 visualizzazioni la live che abbiamo fatto con te 111 live scritto di cambi eeeh 51 scritto di cambi 49 eeeh 31 83 83 109 177 87 22 30 341 65 40 89 95 128 127 22 36 84 20 30 18 14 26 40 29 22 42 12 11 8 12 7 3 9 32 54 19 93 no sto scherzando ti sei scritto al canale 93 no sto scherzando hai messo like alla live ti sei scritto al canale 93 si no sto scherzando hai messo like alla live no mi sa di no perché non mi è uscito io l'ho messo aspetto farlo di un'altra volta perché l'ho messo no eh mo eh aspetta mo la metto un'altra volta ti sei scritto al canale si vediamo ah c'ho ancora 230 iscritti ma perché non mi fa l'ho iscritto pure al canale aspetta un attimo dimmiato aspetta 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 allora metto z93 metto perché non la youtube cazzo allora metto metto z93 ah si 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 ecco metto z93 ecco ti sto seguendo aspetta mi piace ok ti sei scritto ok si mi sei scritto ok si mi sei scritto si mi sei scritto metterci 93 aspetta un attimo Di scritto prima iscriviti prima iscriviti ok due persone live ragazzi aspettati che ora vengo guardate un bagno va bene ragazzo arrivato comunque la live la togliete per favore perché si sente l'eco allora il provino dobbiamo farlo solo cecchino baby the bottle e poi solo contro cosa aspetta solo contro coppia ok prima col cecchino allora col cecchino devi fare di farti una base alta ma non tanto alta poi devi fare poi prende il cecchino e ci dobbiamo sparare ok se arriva se poi dopo passiamo a fare con la squadra di pistole si è dobbiamo fare con le pistole non male con le pistole no con le armi normali si si la bisbalto dopo dopo si ora facciamo col cecchino dopo dopo da quanti sono nel tuo ritmo per ora 18 18 quando siamo lì non lo so perché non sono entrati tutti perché dovevano fare dopo solo contro scoppia e lì è un po' difficile qui deve fare un momma tuo o meno qua Sì arrivo dove sei aspetta però mi senti o no è che ho mangiato la voce della che armi hai vedi dove sto costruendo di ferro no dico che armi ai pompa che c'era stato evico però quella silenziata e boss giovani bruschi posso fare il provino mi chiamo va bene va bene però ora stiamo facendo un provino a lui dimmi che cosa avevi di armi che cosa avevi di armi allora pompa tattico allora non hai capito allora deve avere solo solo c'è il cecchino ok va bene ora le posso il cecchino lo sa dove si trova sì 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 ok no vabbè butta l'anni ah ma tu già l'hai preso ma cosa come aveva nelle munizioni del cecchino sette sì 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 scusa battilegna e compatibili cerchi nulla anzi no 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 cerchi l'amo se la madonna all'ed artista quanto gliai ora che controlli euro sette certo i ghimuş alti vieni da me dai ho trovato il lama vabbè allora te la porta di munizione ok smettiamo le trovo le ragazze di munizione no no te la trovo io già l'ho trovate ah già le hai trovati? si ma si chiama la corsa centrale io a 200 aspetta un attimo io a 268 dove stai? io già la sto facendo lì attivo tu sto qua dove? ah ecco lì vengo io da te ah dai già sta costruendo ma no eh tu costruisci fatti la basso porta unizio è passato tutte le armi che? è passato tutte le armi ah tieni ah ragazzi sono la copertina va bene va bene va bene questo è questo è ma io uso la teide uso io uso la costruzione quella dietro quale? no so caduto quella dietro quale? aspetta a mo non mi ricordo fai di nato sulla quella della costruzione è pure io però questi ce ne vedo eh la che esedizione si pure i gelo vedi quando costruisco veloce ma io ho colato urbo io invece da star che? me da basta via aspetta aspetta dai oh e che sono me via eh lo so sto vedendo non ti fare la porta non ti conviene ma lo t'ho capito come? no 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 Ah, mi stava caricando Che palla Dai, però Aspetta, fammi caricare Ma 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 che usi, due pececchino? Quattro per il cecchino Come? Non ti ho capito No, vabbè Sì, ma dove sei due pececchino? Samba Meda Preso pure male Posso giocare che tra poco devo andare Eh, aspetta Tanto Tra pochi Tanto Quasi finito Ah, te leves No Vabbè No ma è davvero ci dobbiamo spicciare no bella sbagliare un e zero per te dai facciamo che serviva 5 si brontà ma come vabbè ma stava 90 di vita si stava 90 di vita sì no cazzo dai però prima di mezzanotte oh ma dai no vabbè ya ya no no c'è del lisciato sì sono di napoli giuliano ma è da però eh sta caricando il cecchino non 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 che botte che ho preso dai a me ti spicci per favore dai oh dai oh per favore e se no che io c'è io ti vedo perciò non mi voglio fare la testa se non mi prendi no io fare così 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 non mi sto alzando sto andando quest do si dai per ora basta non ti alzare ti piace dare più notte eh guarda pure tu non ti devi alzare bello eh no bello si vai più alto dai eh ragazzi mi piace che vai più alto dai spicci ti possiamo usare il portatile no dai ti spicci ma non ho più materiali eh eh stai qua posso usare il portatile eh sì Gesù bravo facciamo la big battle nooo ti va arrivare a 5 anzi a 4 eh vado a far materiali no 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 se no te ne vai faccio farlo a quest'altro polino eh ok ora sto salendo no basta che basta che ti rigenerati eh ah ok, lo faccio Così, no ma che cavolo Non sparo a te Aspetta Perché hai cambiato squadra mia? Eh no perché Ok Ok Hey Si ma basta Scendi No no vedi che non sono salito Vedi che siamo alla pare Eh lo so però sei più alto di me No 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 Può andare a vedere anche la live Non sono salito Lo so che non sei salito Oh dai Eh oh Oh basta che giochi dai Davvero questo è vero Oh Si ma non ho materiali Eh che fa ma scusa ma non è questo il fatto Il fatto è che si è scorso Si 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 Quale è il tuo regolito di Gilberto? Eh? 8 8 8 12 Va bene Ascorda le faccio tipo 20 6 30 Eh Vabbè Tu sei scarso perciò non le fai Va bene Se voi dopo facciamo una big battle Dai Se arriva a 4 Lo sai Eh Poi dice a 4 Poi dice a 5 Sto ambroglione Dai perché devo fare anche questo E provino a coparca Eh lo faccio a vedere una big battle Se ti spicci anche a 5 E io Ti sto spicciando Poi dai come ti faccio cadere tutta la base Dai Dai Spicci Io sto vedendo No 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 Anche sbagliare Dai parati Eh Foggia Dai parati devi spicciare Se no qua non ci riusciamo a fare problemi a tutto No No Cioè no vabbè Io ti avevo colpito So che non mi ha dato il colpo Perché tu mi ha ucciso Perché so Che era capito Eh scusate Scusate Ultimo Eh se lo fai ultimo Eh se lo faccio Pronti di sticcio Grazie Siamo Ma mi lagga Ho mila di bingo Oh ok Mo è acceso Finalmente Dai ti sprighi E' perso Sì ma tu Tu si doppia C'è il doppio cerchino Eh beh Eh beh Dai No devo fare questo E' provino Dopo lo fai Dopo lo fai Il big button Allora Giovanni Bruschi Ti sei iscritto al canale Metti mi piace la live Eh Perché Sto ancora due Quindi iscriviti Metti mi piace Dai Giovanni Bruschi Vabbè comunque guardo la tua live Vedo No aspetta Posso fare provina Ah ok Sei un altro Eh Sì vieni vieni Titans 636 Se giochi da PlayStation Voi sui tuoi amici Cioè Scaccia PS Voi sui tuoi amici E invitami Cioè Inviti Mi la richiesta di amicizia Io te l'accetto E Giochiamo E poi provino Dai Mi chiamo No Me la devi invitare tu Se no La faccio Ad Hunter 135 Aspetta tu qua Aspetta Vabbè abbandonato Non fa niente Dai facciamo io Ma che Mi sono Aspetta Prima di tutto Ti sei iscritto al canale Perché se non ti sei iscritto al canale Eh Eh Devi mettere Prima mi piace Poi devi iscrivervi al canale Ok Iscriviti al canale Metti mi piace Metti mi piace Metti mi piace Pa bella raga Raga io l'ho comprato la tastiera da gaming ovviamente Glielo sento da provare e non è compatibile per la play Porca miseria che palla però non mi esce mi ha invitato la mia inviato la richiesta Allora facciamo una cosa perché lo facciamo io contro a queste diremmo chi è più forte no perché il provino è il mio C'è Ok io entro nella parte di wii tu entra qui Diventa le parti Sì io entra nella parte su ok Ciao raga Bella bro 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 ci sei Ok bro ci sei Cricchetto Tu la senti under si di tanto no a lui Ok Baga bro Allora faccio una cosa Tu è a scendere un ottimo perché devono fare il provino Allora che vuoi fare build battle oppure coppie solo contro coppie perché tendono fino a di fare tutto a 3 quindi cosa ti vuoi togliere prima Ad Haha Il parto E poi devi fare sempre questa.. va bene il moto da quando mi segue dai sui dubbi due o tre giorni no io voglio puglia ora la qualità video brutta però è brutta però tra qualche giorno c'è no tra qualche giorno migliorerà cambiato il compito con di vista under se tu stai guardando la live messo coppia messo coppia ho messo non riempire chi so questi qua no ma non sto a coppia quasi questa coppia sì sì anzi posso anche stare un tuo cuore vabbè non ti preoccupare che la farai non ti preoccupa io sto a pinnacolo pensavo che la parco no non avevo sbagliato perché pensavo pure che erano stavo in parco non ti preoccupa che erano stai guardando la campanina non ti preoccupa che erano stai guardando la campanina il fatto è che ora come devo scendere da questa montagna non pompa voglio un pompa la ricetta amicizia quanti anni hai dove l'ha 4 giusto ho sbagliato con la foto brutto veramente mamma mia c'è il massimo di si infatti posto abituato così come butto a m prima di averlo sbagliato fare singolo vi scoppia io ho 4 kg mi sono buttato giù mancavano 11 da una montagna mi sono buttato giù vada scusate se scaricato controllo mangio la miseria vada scusate se scaricato il controllo se lo scaricato il controllo non questo posto non c'è giù giù che batti di c'è giù c'è giù c'è giù c'è giù c'è giù c'è giù Che botti che vuoi preso? Pa-pa-ra-pa-ra-pa-ra Peri-peri-peri Raffanculo Peri-peri-peri-peri Cambia squadra Ma perché giochi che cosa vuoi fare cioè che cosa si può si fa io non ho mai provato No, no, giochi che non ci accergo, ci sono le macchine per volerlo, pure il pombo tattico Ti si sembra, vieni, vieni Tantanto da mio spalle Ragazzi iscrivetevi al canale Chi c'è l'alba E dove ci sono che macchinetta? Chi c'è l'alba Chi c'è l'alba Chi c'è l'alba Poi ad esempio Prendere il pallone Non riesco Con la grigia Perdano andiamo ora ora andiamo a prendere ecco adesso vado a prendere un tanto in fare intorno mi sono fatta le munizioni c'è il cerchino è leggendario vediamo che vanno tolto io ho una nuova arma mi vado a prendere la scar se vuoi una slope c'è vedi che ha trovato scaracca qua senza la macchina dai per me posso iniziare a build bottone lo spazio fare prima ma sì sì l'ho trovato tra l'ho trovato senza macchinetta prova di in partita non trovo mai niente sembra non giro sì l'ho se arriva a 5 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 s Grazie a tutti. allora hai 50 con lo scorso sbagliato la pittaforma giochi play cosa batte capo 3 che palla no perché sei sceso la pitta Opa che panno 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 Non salite però Opa che panno 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 Se ne fai Opa che panno 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 Lea Opa che panno Opa che panno Opa che panno Panno Opa che panno Opa che panno Opa che panno Panno Opa che panno Quanto bene con Panno Opa che panno Panno Opa che panno Dove stanno Qua panno Opa che panno Opa che panno Panno Sto stanno Sto stanno Opa che panno Opa che panno Panno Ciò che panno Opa che panno Opa che panno 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 ok figo quando si abbassa sta cosa prima tutto o no leo ma da sembra che ti giro la testa sembra che è sombriaco qual è il nostro dove dobbiamo mandare a sparare lì, andiamo quando è qui lì? io ho fatto 26, 27, 27 bravo 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 finita la caccia dei scildini attenta o due vol due me li chiamo finisca scendo preso con voi cildine veniva mai visto non faccio altro il tavolo come vuoi il pombo blu oh bello ah voleva verde oh che forte che avevo preso una volta che qua no mi sono fatto uscire così quando è che mai tra pari io stavo perdendo lo sai ma la le bull e bule bu le bu con di che ma la lepule adema distruggire pomodoro aria c'è il corso la in doga aria 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 no no va bene non aria 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 s what no vabbè cosa mi ha sparato no vabbè vabbè tu 8 io 3 che batti che ho preso no ma come da dove no no vabbè oh oh ma no perché ti fai che non lo è quello che è? non c'è senso ando sono non ho spavano ma morì male sto coglione io ho 4 dove stanno? non la trovo no io ho 4 eh raga io devo staccare io non so com'è come si chiude la live? lei ora non mi ricordo più vabbè ah ok ho fatto togliti davanti bella raga ci vediamo alla prossima ci vediamo domani anzi ciao 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 ciao